Ciao a tutti ragazzi, finalmente mi sono tagliati i capelli, mi raccomando non voglio commenti su questo. Ora parliamo dei nuovi telefoni di Apple, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max che sono stati presentati a settembre. Sono stati migliorati, abbiamo qualche nuova funzione, sono migliorate le fotocamere che ora andremo a parlarvi. Prima di inserire i video lasciate like, condividete i miei video e mi raccomando seguitemi su Instagram che mi chiamo TecnoGigi dove porto cose come sondaggi, schede tecniche, cose molto interessanti. iPhone 13 si presenta un processore a 15 Biomech come tutti e quattro modelli a 5 nanometri. Abbiamo 4GB di RAM con memoria interna finalmente passati da 64GB a 128GB. Abbiamo il notch ridotto del 20% rispetto agli anni precedenti. Abbiamo due fotocamere, la principale da 12 megapixel e la grande angolare da 12 megapixel. Quando comprendete il telefono troverete nella confezione solo il cavo per caricare l'iPhone, caricatore a parte, cuffie a parte. Come sapete in questo periodo iPhone puntando solamente sul telefono, a parte della confezione non troverete quasi nulla. Abbiamo una ricarica da 20 W con ricarica in più per quanto riguarda la ricarica. Avete la certificazione IP68 resistente ad acqua e a polvere, per esempio se vi cade il telefono in acqua sicuramente sarà ottimo. Non lo mettete apposta che vi fate il bagno come succede molte volte, come faccio io e se rompe il telefono poi sono guai. iPhone 13 mini parte da un prezzo di 839€ per il modello da 128GB. Vi ricordo che i 64GB l'hanno totti da mezzo e sicuramente è molto utile. Abbiamo un iPhone 13 normale, si presenta anche lui con un processore A15 o Biomec a 5nm. Abbiamo 4GB di RAM che parte da un prezzo di 939€. Abbiamo una batteria da 3240mAh. Abbiamo uno schermo da 6.1 pollici contro lo schermo di iPhone 13 mini a 5.4 pollici. Mi raccomando l'iPhone 13 mini che è molto più piccolo, molto più compatto, però comunque la batteria è molto ma molto più piccola. 2448mAh per un processore come A15 sicuramente non è un gran vantaggio. Hanno tutti quanti 4 telefoni, l'ultimo sistema di iOS, iOS 15. Tutte 4 saranno sicuramente aggiornati. iPhone 13 mini ha anche 2 fotocamere, schermo a 60Hz con uno schermo OLED. Molto più grande, molto più compatto, molto più bello da utilizzare. Comunque anche lui non ha l'impronta digitale all'interno dello schermo, anche lui non ha 3 fotocamere come i fratelli maggiori iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. E questo secondo me è un punto di equilibrio. L'iPhone 13 normale non sarà troppo piccolo, non ha una batteria molto piccola ma è un punto di mezzo che sicuramente iPhone 13 normale a un prezzo di 939€ sarà ottimo da acquistare. Poi invece chi vuole puntare ancora più in alto abbiamo iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Abbiamo iPhone 13 Pro che parte con un prezzo di 1189€ e iPhone 13 Pro Max con un prezzo di 1289€. Questi ultimi due hanno uno schermo a 120Hz, certificazione IP68, materiale da 3150mAh. Abbiamo 6GB di RAM, memoria interna a 128GB, 256GB e 512GB di memoria interna. Quindi alle vostre esigenze ci sono questi tipi di tagli. Abbiamo anche un colore nuovo, rosa, su Apple ha messo a disposizione per i clienti la possibilità di avere anche il colore rosa. Abbiamo una nuova funzione per tutti e quattro telefoni, si chiama funzione cinema. Avete la possibilità di vivere come in un film. Tre fotocamere, doppia stabilizzazione da parte dell'Apple. Sono eccezionali. Abbiamo sempre la fotocamera 12MP, grande angolare da 12MP e poi abbiamo un sensore dello zoom fino a 3x con un sensore TOF per le macro. E poi troverete una ricarica da 20W con una ricarica inversa sempre da 15W dove tutti e quattro i modelli. Infatti ricarica che dovrebbe garantirvi in un'oretta circa il 60-80% di ricarica. Anche per l'iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, tutti e due modelli hanno i notch però sempre ridotto del 20%. Ragazzi, ora passiamo alle conclusioni. iPhone 13 mini, iPhone 13 normale, ve le consiglio per chi ha un telefono piccolino, compatto, sicuramente iPhone 13 mini e assolutamente al caso vostro con iOS 15. Se volete fare un passaggio da iPhone 6s, iPhone 7, sicuramente è un'ottima scelta. Per chi vuole un modello più grande con uno schermo, una batteria che dura abbastanza, sicuramente iPhone 13 normale è ottimo. Per quanto riguarda iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, per chi vuole un compatto fotografico ottimo, anche iPhone 13 mini e iPhone 13 hanno un compatto fotografico da top 11, però comunque iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max hanno una fotocamera in più che possono sfruttare al loro vantaggio. E vi ricordo che iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max saranno aggiornati per tanti anni, come tutti i modelli, addirittura iPhone 6s sarà aggiornato all'iOS 15, come si sa in questo periodo, infatti Apple sta molto ma molto migliorando su questo punto di vista, sui sistemi operativi rispetto a Android, che Android aggiorna, ma più le passi di sicurezza, ma dall'ultima novità di Android sapete che in modelli nuovi due sistemi operativi durante gli anni, più le passi di sicurezza e durate di circa tre anni. iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max sono più elevati i prezzi, ma hanno anche un compatto migliore, anche per chi gioca ai giochi ve lo consiglio, invece per quanto se giocate molto ai giochi e ai videogame, sicuramente iPhone 13 mini non è su questo punto di vista il migliore, perché ha una batteria solo da 2448 mAh. Sì, con questo è tutto, ci vediamo in prossimo video, lasciate like, individe i miei video, come vi ho detto prima, fatemi sapere cosa ne pensate voi, questi nuovi iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, ne sono davvero tanti. iPhone 13 Pro Max è uguale a tutti gli altri modelli, ha sempre lo stesso processore, abbiamo solo la migliorata della batteria, tutti e quattro i modelli hanno il 5G, infatti tutti e quattro potete utilizzarli con la nuova tecnologia 5G. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!